Oh, che fa? Stai a prendere il caffè Eh no, non mi fa la sbustata Ah, subito, no, no Oggi per la sfida sbustata Sto portando un po' di persone indietro Questo è il mio team Giorgio Ma vediamo prima la sbustata Ecco qua Vediamo chi sbusta il mostro più figo Questa è la lega dei mostri Giorgio 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 Cironi il saggio? Miniaturizzare, beh, Cironi il saggio è figo È figo Secondo me questo mi farà vincere Eh, noi abbiamo sbustato Voto a caffè delico Team Fede Siete pronti? Bastardi Da tanto vinco io E' come Capitan America e Iron Man, no? Ma Iron Man ce n'ha ragione No, c'è la ragione è Iron Man, è Capitan America Per film C'è la ragione è Iron Man C'è la ragione è Iron Man Vandiamo Alù Vai Ho trovato una fiammata di drago Mi sono disegno di abilità Che c'ho io? C'ho l'insetto arsenale Giorgio, tu che hai trovato di mostro grosso? Io ho Kironi il saggio Quante? 1.800 E difesa? 1.000 Ah, davvero? Ah, è trovato il mostro più grosso Allora, schierati con il team Fede o con il team Giorgio E stai pronto Perché abbiamo proprio le magliette per te E quindi scegli quella che ti piace di più La mia E questa era la nostra sfida settimanale Io con il mio team e tu con il tuo Se ti è piaciuta questa sbustata Iscriviti e metti mi piace E commenta scrivendo Team Fede e Team Giorgio Come al solito qui ti facciamo un bellissimo saluto Stay Lab e al prossimo video